La vita si è fermata a Sotirio nella Grecia centro-occidentale dopo il passaggio della tempesta Elias. Le forti piogge hanno completamente allagato il villaggio, intrappolando i suoi abitanti nelle case in attesa di soccorsi ed evacuazioni. Sotirio è solo uno dei tanti villaggi della regione che sono stati completamente o parzialmente inondati a causa dell'evento meteorologico estremo, il secondo in meno di un mese a colpire l'area. Nella città di Volos, che conta circa 150.000 abitanti, i vigili del fuoco hanno prestato soccorso a più di 4.000 persone.